ciao bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi saremo su gta 4 ciao ora vi farò infrettatevi saluta oggi vi farò fare tipo la storia la storia di gta 4 da capo perché anzi un poco ci ho giocato perché anche non tocco la pena 3 anni è voluto l'ombrellone di fuori inizio allora dici ma la storia è difficile da fare non tanto perciò si deve ragazzi spero che si veda bene si non 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 Grazie a tutti. Quanto costa? 30 Eh dai Mi faccio vedere il tempo Allora Dai Ah Sta caricando La storia Allora 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 Questa sarà la mia nuova casa Intanto Si sentono delle voci Perché Giù stanno facendo i lavori Perché Perché Tra poco devono costruire le ville Allora 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 A 10 iscritti Non pensavo che ci arrivavamo Eca Allora 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 Spero Spero di compriarmi Al più questo La webcam Nel computer Allora 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 D geography Allora 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 Ambre Allora C'è una cosa rossa, uguale questa, quella che mi spiega. Amico però, mettila la freccia. La gente non sa guidare, ho compreso io. La gente non si va a perdere, dove c'è il sistema. Come si, è stato l'aggo. E' una bella macchina la canzone. E' una bella macchina. 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 Allora ragazzi il video finisce qui. Lui è mio fratello. Ciao. Allora ragazzi il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Sporriciate, commentate e iscrivetevi. Ciao. Ciao. Ciao.